Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Incominciamo dall'inizio a raccontarvi la mia storia, anzi da prima dell'inizio. Arrivato all'università, la prima cosa che ho fatto, appena iscritto, ho inventato il CUT a Genova, Centro Universitario Teatrale, dove invece che occuparci delle lezioni, ci occupavamo di teatro. Abbiamo fatto tutto plauto e poi con il professor Francesco Dallacorta ci siamo inventati una cosa strana. I processi celebri dell'antichità. Era un ciclo in cui prendevamo i testi di Cicerone, Lisi, eccetera, le abbiamo fatti diventare un processo dialogato, un processo moderno e abbiamo incominciato a recitare all'università. Abbiamo fatto un tale successo che ci hanno chiesto di farle fuori. L'abbiamo fatto nei teatri di Genova, ci venivano a vedere tutti i critici, il direttore del secolo Umberto Vittorio Cavassa, addirittura ci faceva le critiche sulla prima pagina del giornale. E a un certo punto abbiamo avuto un tale successo che ci hanno chiesto di farlo nelle università dell'Italia settentrionale. Tra le altre l'abbiamo fatta a Milano. A Milano è venuto a vederlo il professor Mario Attilio Levi, che era il maestro di Francesco Dallacorte, amico di Sergio Pugliese. Io presentavo quella sera le Catilinarie, scritte da me, in cui facevo sia l'attore che il regista. Sergio Pugliese in quel periodo era incaricato di organizzare, di inventare la televisione in Italia. Era un periodo assolutamente sperimentale. Ha visto lo spettacolo, gli è piaciuto, mi ha detto mi venga a trovare domani. Lì domani sono andato, mi ha detto le piacerebbe fare la televisione. Ho detto non so cosa sia, è una scatoletta in cui ci sono delle immagini in bianco e nero ballonzolanti. Mi ha detto non lo so nessuno, sono stato io in America per un po' di mesi a cercare di capire cos'è, cosa le piacerebbe fare. E io gli ho detto subito, di botto, mi piacerebbe fare il presentatore dei programmi. Sergio Pugliese era un uomone alto alto con un vocione, mi ha detto Molinari, con quel naso. No, i presentatori devono essere belli, biondi, con gli occhi azzurri. No, no, lei ha fatto una bella regia, farà il regista. Ed è tutto cominciato così. Ho fatto un periodo sperimentale. Era un periodo in cui non andavano in onda i programmi perché non c'era televisori fuori. Li facevamo e li vedevamo tra di noi, li discutevamo. Il giorno dopo ci ritrovavamo a parlarne con Sergio Pugliese, dicevamo le cose sbagliate, secondo tutti noi. Dopo questo periodo sperimentale in cui ho fatto vari programmi di vario genere, il 3 gennaio del 1954 mi sono trovato a dirigere la trasmissione inaugurale della televisione. Il perché era perché forse ero il più giovane del gruppo, avevo 23 anni, e a un certo punto è stata una trasmissione tecnica, cioè spiegavamo come le immagini venivano riprese dalle telecamere, facevamo vedere le telecamere, poi cercavamo di far capire come le immagini attraverso i ponti radio arrivavano nelle varie città. Questa è la prima parte che ho fatto diretto da un piccolo studio di fronte al palazzo della RAI in Corso Sempione. Poi mentre andava in onda un pezzo di filmato, un brano filmato, correvo attraverso la strada, ho attraversato la strada, sono entrato nel palazzo, ho fatto di corsa dei corridoi perché dovevo arrivare a fare la regia prima che arrivassero tutti gli invitati, in particolare il vice-arcivescovo che doveva benedire il nuovo studio 3. Ho fatto la corsa, ho dato una spinta a varie persone, ho spintonato anche il povero vice-arcivescovo che è andato a finire contro un muro, ho fatto una scala di corsa e affannato sono arrivato in tempo a dare lo stacco mentre si apriva la porta e entrava l'arcivescovo. Ci sono stati vari discorsi ufficiali e la benedizione dell'arcivescovo allo studio 3. ed è cominciato tutto così.